Ti sei mai chiesto come fa colazione un campione del mondo? Beh, devi sapere che la colazione è una dei pasti più importanti della giornata. Se fai una corretta alimentazione ti ritroverai ad avere le giuste forze, le giuste energie, la giusta concentrazione e soprattutto se stai per andare a sciare, come noi questa mattina, sicuramente percepirai anche meno il freddo. Quindi pronto? Vieni con me che ti porto a vedere come fa colazione un campione del mondo. Vieni! E buongiorno! La mattina serve il tempo necessario, svegliatevi in tempo per fare una buona colazione. Ci vuole calma, pazienza, vanno scelti i prodotti giusti. Avete grandi possibilità di scegliere muesli e cereali di diverse qualità, di diverse marche, ma cercate di scegliere prodotti integrali, più facilmente digeribili. Non dimenticatevi di integrare con un po' di proteine. Io in questo caso ho preso il prosciutto, le uova danno forse più energia, sono un po' più caloriche, ma al mattino ci stanno. Inizia con un bel bicchier d'acqua, così almeno lo stomaco si prepara, dopo una notte lunga dove avete riposato sicuramente bene. E un bel caffè che non guasta mai, anzi ci fa svegliare e poi partiamo decisi. E un bel caffè che non guasta mai, anzi ci fa svegliare e poi partiamo decisi. E un bel caffè che non guasta mai, anzi ci fa svegliare e poi partiamo decisi. Grazie.